Dopo l'emergenza sanitaria adesso l'attenzione è tutta sull'emergenza sociale. Per contrastare l'aumento delle disuguaglianze, Unicop Firenze in collaborazione con la Fondazione Il Cuore Si Scioglie mette in campo un contributo economico di un milione di euro, cifra messa a disposizione delle associazioni del territorio impegnate sulle tematiche sociali, per far sì che nessuno resti indietro come da nome della campagna. Una risposta sociale alla quale noi avevamo già dato nei tempi passati, sostenendo i buoni dei comuni ma anche dandoli noi con l'SOS e la spesa sospesa, però questa volta abbiamo detto facciamo qualcosa di più consistente da qui alla fine dell'anno mettiamo sul piatto un milione di euro che va a queste realtà del disagio perché queste con la loro capacità di inclusione riescono a tenere insieme la società che diversamente quando si provocano grandi scossoni, se il cammino di ripartenza non è fatto portandosi dietro tutti quindi nessuno indietro, è un po' difficile che la comunità si rafforzi. 500 mila euro, ossia la metà della cifra a disposizione, complessivamente è destinata a sostenere le menze dei povere gli impori della solidarietà e tutte le attività di distribuzione cibo e beni di prima necessità. Alla disabilità e alle richieste di intervento avanzate dalle associazioni verranno destinati 250 mila euro infine gli ulteriori 250 mila euro verranno utilizzati per l'attività dei centri antiviolenza, le case rifugio, le case famiglia, le comunità e centri per minori.